Bene amici, Fritz sapendo che sono un loro fan mi ha chiesto di raccontare un po' tutti i loro prodotti qui da MediaWare dove hanno un corner ma ho detto, cari amici di Fritz, cioè io le cose le provo, facciamo un'installazione per far capire che anche in un MediaWare da 3500 metri quadri per piano da 70 metri per 50 si può coprire e connettere tranquillamente con i vostri prodotti, anche quelli consumer, anche quelli da casa e allora vedo un monopattino, lo prendo e ci facciamo un giro, così vi racconto come ho connesso MediaWare no, che tra l'altro ma cosa mi ricorda tutta questa situazione, allora era una notte da MediaWare, adesso è una mattinata per connettere MediaWare e stiamo arrivando al punto iniziale della nostra rete, ciao Alessandro, buongiorno allora cosa abbiamo installato? 7530 AX che ci farà da router, AX vuol dire quello con wifi 6 collegato con il cavo LAN al tuo computer ma alla rete di MediaWare tramite uno di questi altri cavi LAN per ciucciare internet questo qua, perché se avete la possibilità di cablare, cablate il più possibile il wifi ovviamente utilizzatelo per quei dispositivi che non riuscite a collegare alla rete LAN, questo è un suggerimento generale qua è come abbiamo strutturato la rete, come vedete gli apparati repeater sono in mesh, mesh vuole dire che tutti gli apparati comunicano tra di loro automaticamente per garantire ai client la miglior connessione possibile si gestiscono loro, quindi il client si collega in base alla potenza del segnale quindi abbiamo lui che ovviamente fa wifi 6, abbiamo due repeater 6000, abbiamo qua sotto un power line perché c'è un punto dove si fa fatica ad arrivare con la rete, proprio però in questione di... è un posto segretissimo, non mi posso dire niente e vabbè facciamo un giro, speed test e vediamo come abbiamo connesso MediaWare Pronti? Andiamo Ma in molti si chiedono quanto copre il wifi? Impossibile rispondere a questa domanda perché ovviamente dipende dai muri che avete in mezzo, dipende da un sacco di fattori dipende dalla distanza, dipende dalle interferenze elettromagnetiche qua di interferenze elettromagnetiche ma quante ce ne sono? però noi prima abbiamo fatto un rapido calcolo e per coprire questi 70 metri per 50 abbiamo messo qua, che siamo più o meno al centro di MediaWare piano terra un 6000, come avete visto prima collegato in Mesh e visto che abbiamo anche un computer da gaming beh, vediamo subito come va, qua ho fatto prima uno speed test ma lo rifacciamo vi faccio vedere come siamo collegati ovviamente alla rete di Fritz tramite appunto il 6000 e beh, ping non male, banda non male ovviamente non arriva tutto il gigabit ma qua siamo... eh, guardate dove sono le casse là in fondo saranno almeno una... sì, una trentina di metri ma adesso andiamo là, da Samsung voglio vedere se il segnale arriva anche là e ovviamente il 6000 che avete visto è collegato in ponte wifi proprio al router al 7530 ma qua siamo proprio da Samsung esattamente a 70 metri dalla cassa con in mezzo un sacco di interferenze, scale mobili, pilastri eccetera eccetera e due vecchie conoscenze il flip e il fold tra l'altro potrei anche valutare la resistenza perché qua chissà quanti apri e chiudi avranno fatto questi flip e questi fold e vediamo come sono messi mi sembra abbastanza bene ma rete wifi c'è, tra l'altro hanno anche appena acceso la musica ma prende vediamo se anche sul fold riesce a prendere ovviamente è connessa adesso alla rete qua di Media World allora prende dice lenta perché ovviamente si collega qua in lontananza alla 2.4 GHz quindi non alla 5 GHz ma prende a almeno 25-30 metri di distanza dal 6000 ma adesso ho dovuto fare un esperimento ancora più hard al piano di sopra però devo fare una corsa contro il tempo perché porca vacca devo girare a negozio chiuso e sono le 9.30 stanno entrando i clienti aiuto devo essere veloce come la rete di Fritz dai dai che ci siamo dai che ci siamo sì vedo là in fondo la scritta 8K dai che ce l'ho fatta allora arrivati qua sì sì e la rete c'è guardate Fritzbox 7530 prende qua sopra adesso vi faccio vedere grazia cosa vedo qualche cliente devo cercare di schivarli reparto tv fosse stato per me li avrei collegati tutti al Fritz purtroppo non ho avuto il tempo necessario ma vi posso dire che nel mio ufficio ho oltre 100 device connezzi e funziona tutto tranquillamente adesso ah sono salvo entro nell'aria riservata è anche un po' segretta eh sì perché l'altro di Peter un altro 6.000 l'ho messo proprio qua in un ufficio di una dirigente tra l'altro avete visto quanto siamo distanti dalla televisione ci sono anche un po' di muri in mezzo non dovrebbe esserci nessuno no non c'è nessuno fortunatamente entriamo adesso magari faccio qualche ordine a caso a mio nome ma no scherzi a parte ecco qua il 6.000 che in questo caso guardate ho collegato via LAN non via wifi ovviamente l'avrei potuto anche collegare via wifi lui si sarebbe connesso o all'altro 6.000 che c'è al piano di sotto o al 7530 in base a logiche di prestazioni perché ripeto la rete mesh si autobilancia e si autoconfigura ma vi do un suggerimento se avete una casa o un ufficio a più piani beh passare le solette è la sfida superiore per le onde radio quindi se potete passate un cavo di rete perché avrete più banda e più affidabilità se non potete ovviamente usate la rete wifi mesh ed eccoci nel posto super segreto qua non posso far vedere più di così perché ci sono milioni di euro di merce ma grazie al powerline abbiamo portato la rete wifi anche qua tra l'altro il powerline comunica con il router tramite i cavi elettrici qua è collegato in maniera abbastanza rudimentale a una ciabatta sarebbe meglio collegarlo direttamente a una presa le prestazioni dipendono tantissimo dall'impianto elettrico ci sono in mezzo degli interruttori differenziali ciabatte eccetera 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 quindi diciamo che è un po' l'ultima spiaggia ma volendo la cosa interessante è che lui pesca i dati dalla rete elettrica ma volendo ci si può collegare anche qua un qualcosa di cablato quindi per alcune soluzioni ha senso però lui è l'unico che non è wifi 6 vabbè mi accontenterò di uno speed test vediamo quanta rete abbiamo portato nel bunker dove il wifi non arriva perché c'è una porta spessa almeno 30 cm di acciaio beh voglio dire dai 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 un po' di dati ci sono ovviamente come vi dicevo prima sono influenzati dalla rete elettrica però però qualcosa abbiamo portato e dopo tutto questo giro che vi ha raccontato come funzionano bene i modem, router, repeater, powerline eccetera 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 di Fritz all'angolo Fritz che c'è qua in Media World Certosa c'è Gaia ciao Gaia buongiorno a tutti tu vendi questi prodotti? sì, corretto mi chiedo come si chiedono i miei utenti ma perché dovrei comprarli qua da Media World e non online? sicuramente online non si ha tutta l'esperienza che un addetto vendita può darti ovvero tante persone non sanno in realtà qual è la vera necessità alcune volte non sanno neanche descriverti la loro problematica ecco in negozio si trovano delle persone esperte che sanno di che cosa si sta andando a parlare e sanno risolvere il tuo problema e secondo me online non è proprio così semplice ma ok tu mi dici come installarlo come configurarlo io da utente un po' newbo lo compro da casa non va niente posso anche lì avere un valore aggiunto comprando il negozio o no? assolutamente sì in negozio puoi trovare delle soluzioni che sono anche il cliente viene in negozio e acquista il prodotto e noi mandiamo a casa un tecnico specifico che sa esattamente come installarlo te lo installa sui tuoi dispositivi ti fa vedere come configurarlo e lo fa lui perciò tu avrai un servizio a 360 gradi allora faccio l'avvocato del diavolo quanto costa? perché poi mi costa un sacco di soldi in realtà no sembra una cosa veramente costosa ma è un servizio che parte dai 29,99 euro a salire perciò veramente è a portata di qualunque persona qualunque portafoglio ed è veramente utile per i clienti a salire perché poi eventualmente si deve tirare un cavo si deve fare un'opera muraria sono casi rari ma effettivamente è difficile poi preventivare tutte le variabili che si possono incontrare in una casa ma sostanziale avete visto a prescindere da Fritz voi sapete io sono un fan di Fritz perché funzionano benissimo fatevi una rete stabile perché è la base per ormai tutti i servizi digitali che sono entrati nelle nostre case a partire da guardare partiti di calcio in streaming fino a la macchietta e il caffè connessa ciao ciao Gaia ciao grazie a te Grazie a tutti.